Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati nel salotto dello sport di casa vostra, puntata imperdibile per tutti quelli che hanno a cuore il mondo del pallone dilettantistico nostrano, ma non solo, perché l'ospite di questa sera è una persona con la quale faremo una chiacchierata a 360 gradi sulla Serie D, sul mondo dei dilettanti, sul professionismo e sulla luparense, perché abbiamo qui con noi Alberto Briaschi, direttore sportivo della luparense. Buonasera direttore. Buonasera a voi. Allora direttore, tanta carne al fuoco, abbiamo i nostri 15 minuti canonici per parlare di più cose possibili, iniziamo da un tema di stretta attualità, il ministro Spadafora con i suoi ultimi decreti legislativi di riforma nella materia sportiva ha previsto l'abolizione del vincolo sportivo per i calciatori dilettanti, ti chiedo un tuo commento, una tua valutazione su questa che è una scelta un po' epocale per la categoria. Le società sportive non sono tanto d'accordo. Il vincolo sportivo è da un po' di anni che è sulla bocca dei rappresentanti della categoria. È un problema abbastanza serio, nel senso che le società tendono ad investire sui ragazzi giovani per cercare di portarli avanti negli anni e di portarli possibilmente in prima squadra. È chiaro che con il vincolo questo si poteva fare e senza il vincolo probabilmente non si farà più. E quindi cosa succederà? Succederà che ogni anno è a sé, nel senso che tu parti con determinati giocatori, fai una rosa di una squadra e l'anno dopo ti trovi con una rosa completamente diversa. Al di là poi dei risvolti economici c'è proprio come dicevi giustamente direttore un problema di progettualità. C'è un investe su un calciatore al di là del ritorno economico, ma c'è sempre poi la possibilità che a fine stagione ci si saluti senza poter dare poi continuità al rapporto. Approfondiremo tutto questo argomento, tutte le nuove direttive legate alla riforma del mondo dello sport in una delle prossime puntate. Torniamo a parlare però invece di calcio giocato. Perché? Perché il 6 di dicembre ripartono regolarmente i campionati di Serie D. ripartono, ho usato regolarmente tra virgolette direttore, perché è un'altra falsa partenza. Squadre come la Luparense che non hanno dovuto effettuare i recuperi sono praticamente ferme da un mese. C'è chi ha giocato, mi viene in mente insomma il Cartigliano che ha giocato ogni domenica, quindi ha ritrovato un po' il ritmo partita. Squadre che hanno fatto a mozzichi e bocconi, come si suol dire. è un po' un campionato talmente anomalo che come si riparte adesso il 13, il 6? Sì, sappiamo tutti che questo è un campionato anomalo e lo sapevamo già all'inizio. E quindi bisogna cercare di condividere le cose con il gruppo, cercando di fare il minimo indispensabile perché gli allenamenti possano essere costanti, anche nel tempo, in un mese voglio dire, quindi non è stato facile per noi allenarci senza fare le partite. Però è così, siamo di fronte a un'emergenza e di conseguenza dobbiamo adattarci. Chiaramente insomma l'attualità, la situazione che tutti noi affrontiamo al di là del campo, al di là dell'aspetto sportivo è di primaria importanza ed è la cosa sicuramente più importante per quello che riguarda la salute, il benessere, l'economia, la scuola, il mondo del lavoro. Insomma sono delle premesse che noi facciamo ogni volta ma è doveroso farle. Però parlando proprio strettamente di calcio, a livello di preparazione, di mentalità, di livello agonistico, non è difficile giocare un campionato come quello che stiamo giocando? Sì, è molto complicato perché è chiaro che tu affronti alla domenica una squadra e non sai qual è il suo stato di forma, non sai il pregresso e quindi diventa tutto difficile. È chiaro che una squadra la può fare al 100% perché magari è in quel momento più fresca, la partita successiva la trovi in un'altra condizione fisica e magari dà una prestazione diversa. Questo è scontato. E allora facendo adesso un focus sulla tua squadra, direttore, sulla Luparense, come valuti il cammino finora in questa prima parte di stagione dei Lupi? Noi abbiamo fatto un buon cammino. Credo che a livello di prestazioni l'abbiamo quasi sempre fatta, al di là forse della partita in casa con il Delta che sono stati più bravi loro. Però per il resto credo che siamo un po' in credito con un pizzico di fortuna perché il nostro campionato sarebbe sicuramente meritato con tre punti in più. Forse anche qualcosina in più, perché fra gol annullati regolari, pali clamorosi, decisioni diciamo arbitrali non sempre ineccepibili, insomma forse mi permetto di dire da cronista che ha seguito tutto il cammino della Luparense finora, anche 4-5 punti in più in classifica forse ci stavano tutti. Però al di là della classifica, la squadra, vedi una crescita della squadra dall'inizio della stagione ad adesso? Sì, sono molto soddisfatto per il lavoro che sta facendo lo staff e in particolare i ragazzi perché si impegnano, non li ho mai visti, non affrontare un allenamento in modo positivo e questo mi fa un enorme piacere insomma, quindi vuol dire che il gruppo è sano e importante. E il mister? C'erano state delle voci prima dell'ultima vittoria in campionato, quando c'è stata quella piccola parentesi di tre sconfitte in quattro partite in cui qualcuno aveva già cominciato ad azzardare un possibile cambio della panchina. Invece dalla società è sempre filtrato grande ottimismo, grande stima e conferma nei confronti di mister Zanini. Ti chiedo anche a te, mai stato in discussione? Mai stato in discussione e non lo sarà neanche mai, nel senso che voglio dire quest'anno con il presidente Zaratini abbiamo iniziato un progetto e quindi quando si fa un progetto è chiaro che si passa anche attraverso sconfitte o prestazioni magari sotto tono, quindi il progetto va a lungo termine e quindi non sarà mai in discussione. Direttore è chiaro che chiedere all'oste se quello che vende nella sua osteria è buono è abbastanza inutile perché tutti dicono di sì, però dal di fuori si percepisce veramente che quest'anno nell'ambiente della Luparense ci sia qualcosa di diverso più compattezza, più unione, più lungimiranza, c'è una progettualità veramente ben definita. È una sensazione, chiaramente ne hai merito tu, il presidente, la dirigenza, il mister ma è una sensazione che avverti anche tu? Sì, credo che questo era l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio. Insomma, è chiaro che il presidente lo conoscete tutti, è un presidente focoso, un appassionato e quindi ci tiene moltissimo alla Luparense e questo magari a volte lo portava a essere un po' sopra le righe. Credo che proprio il merito di questo inizio di campionato con atteggiamenti giusti e tutto sia proprio partito da lui e quindi questa è una nota molto positiva. Assolutamente. Spostiamoci, allarghiamo un po' il discorso al campionato, al gerone C di Serie D perché insomma abbiamo parlato della Luparense ma approfittiamo della presenza qui del direttore Briaschi per fare una piccola analisi di tutte le altre squadre, cioè a livello generale che tipo di campionato è quello che hai visto finora? Ti aspettavi magari Delta e Mestre così in alto, l'Arzignano immagino che insomma nessuno si aspettasse queste difficoltà così evidenti. È un campionato di che tipo? Come dicevamo prima un campionato difficile, un campionato difficile per tutte le situazioni che abbiamo detto prima, per l'alternanza delle partite, per tutte queste cose qua. ma al di là di questo io ti dico che il livello delle squadre di quest'anno comunque si è alzato molto. Sembra una cosa strana perché sembrava che dopo il lockdown tutti quanti dovessero restringere un po' quelli che erano gli obiettivi o la voglia di investire e invece non è stato così. Perché ti assicuro che ci sono squadre quasi tutte molto importanti. Eh sì, tanto è vero che hanno paragonato il Girone C di Serie D quasi a una Lega Pro camuffata insomma, effettivamente è un parere condiviso ed effettivamente come giustamente diceva il direttore a inizio stagione tanti credevano a un ridimensionamento di investimenti aspettative eccetera eccetera, invece non è stato così. E apriamo per questo una parentesi sul mercato, mercato che si è chiuso il 31 di ottobre e mercato che è prossimo alla riapertura. Quindi prima di chiedere al direttore sportivo della Luparense quali saranno i prossimi colpi di mercato dei Lupi, ti chiedo se effettivamente ha senso riaprire una finestra di mercato dopo un solo mese con alle spalle un campionato che un po' si è giocato, un po' no, mesi di interruzione, settimane di rinvii eccetera eccetera, è una cosa che secondo te andava spostata nel tempo questa finestra di mercato? Diciamo che è vero che il tempo che è passato è poco, però è anche vero che per dirti, ti faccio l'esempio nostro, noi giocatori nostri sono partiti a fine luglio, quindi stiamo parlando di 4 mesi, quindi voglio dire in 4 mesi io devo capire se ci sono situazioni che vanno o situazioni che non vanno e quindi credo che tutto sommato questo mercato possa rimanere così insomma. Ecco, qualche giorno fa c'è stata la risoluzione del rapporto di lavoro con Pozza e adesso quindi c'è stata una cessione da parte dell'Europarense, per quello che riguarda invece la casella acquisti dubito che tu ci faccia dei nomi, però almeno magari cercare di capire se in quale reparto insomma stai lavorando per rinforzare la rosa. Ma credo che se verrà fuori una situazione vantaggiosa per noi dove potremmo migliorare qualcosina all'aspetto tecnico, tattico, si interverrà insomma, il reparto probabilmente è il reparto offensivo dove abbiamo anche un numero limitato di giocatori, quindi non abbiamo molti cambi e quindi se andremo a intervenire andremo a intervenire lì. Direttore, la sorpresa di questo campionato, la squadra che non ti aspettavi che potesse fare così bene, qual è? Il Delta e il Mestre che sono le due squadre che fatalità sono in davanti, però al di là della classifica hanno dimostrato, nonostante sono partiti in ritardo perché hanno cominciato a costruire la squadra abbastanza tardi, hanno dimostrato di aver allestito una formazione valida, in particolare il Delta mi ha particolarmente impressionato. Siamo arrivati alle battute finali, manca un minutino di tempo che abbiamo ancora a disposizione con il direttore Briaschi per una valutazione che adesso esula da quello che è il mondo della luparense. Con gli attuali protocolli, con la situazione epidemiologica e tutte le difficoltà che ci sono anche nel far convivere il mondo dello sport elettantistico con il mondo del lavoro, tanti giocatori di varie categorie hanno palesato un po' di dubbi in questa annata sportiva, se continuare a smettere, se comunque prendersi un anno sabbatico perché c'è il rischio di rimanere a casa dal lavoro qualora poi si verificassero casi di contagio con la squadra sportiva di appartenenza. Insomma, più di qualcuno ha deciso di prendersi una pausa o addirittura di smettere. Per la Serie D, per la luparense, è un discorso che ha senso, ho visto che la Serie D è più vicina al professionismo che al dilettantismo, non hai sentito di casi di giocatori così in dubbio. È abbastanza un problema serio, nel senso che magari la Serie D, già come dicevi tu, è vicina al professionismo e quindi questo fattore è limitato, però dall'eccellenza in giù è chiaro che ci sono tantissimi giocatori che lavorano e magari tendono a limitare il lavoro per avere il tempo di fare calcio. In questo momento qua è chiaro che giustamente ognuno pensa forse meglio aumentare il discorso del lavoro e diminuire quello del calcio. Assolutamente. E quindi li capisco benissimo. Abbiamo ancora 30 secondi per una risposta lapidaria del direttore Briaschi. A fine stagione Alberto Briaschi è contento se... È contento se il mio presidente sarà contento. E allora speriamo di fare contento il presidente Zaratini. Assolutamente. Io ringrazio il direttore sportivo della Luparenza Alberto Briaschi per essere stato in nostra compagnia questa sera. Ringrazio tutti voi, lo ripeto, che sempre più numerosi ci seguite. Grazie ancora direttore. Grazie a voi, grazie mille. E alla prossima serata.